Siamo insieme a Davide del Comitato Notav Terzo Valico di Novi Ligure, un commento sulla manifestazione di oggi. Sì, ancora una volta i comitati e i cittadini delle zone interessate al Terzo Valico scendono in piazza in migliaia, dimostrando ancora una volta che quest'opera la gente non la vuole, un'opera inutile, devastante per il territorio, l'ambiente, le nostre città, il nostro futuro, la salute, la nostra ma soprattutto dei nostri figli, un'opera inutilmente costosa. Al tempo della crisi, quando chiudono gli ospedali e tagliano i fondi alle scuole, alle università, alla ricerca, quando smantellano lo stato sociale, le pensioni, il trasporto pubblico locale con i pendolari che sono costretti ogni giorno a delle odissee per recarsi al lavoro. Ancora una volta a dire no siamo stati non solo noi, oggi c'è stata una grande delegazione anche del Movimento Notav della Val di Susa e questo ci fa onore, ancora una volta insieme per dire che quest'opera va fermata.